3 2 1 ed eccoci qua cari amici avete visto un tema dark per il fondo di windows ho cambiato un attimino non prendete paura è solo per risparmiare un po sulla luminosità dello schermo che alla fine poi è la luminosità che arriva ai miei occhi e stando davanti tante ore computer me li distrugge quindi un tema nero è un po più sobrio e anche riposante per i miei occhi ma perché siamo qui oggi perché ho trovato un software che è online e quindi non dovete scaricare nulla che può far proprio al vostro caso è un software di grafica andiamo a vedere di cosa si tratta e foto p e ci serve per andare a disegnare vado a spegnere la mia camera eccoci qua foto p poi andate a questo indirizzo foto p punto con quante volte ci serve fare una grafica per l'anteprima del video ci serve scontornare qualcosa insomma un programma di grafica foto p è un programma che non bisogna scaricare andate direttamente sul sito foto p punto com e vi trovate davanti a questo che sembrerebbe molto photoshop non spostatevi da questa schermata perché è molto interessante poter aprire un nuovo progetto direttamente da qua e accedere a questi che sono dei layout già pronti come vedete qui c'è la risoluzione della posto nuovo progetto il nome del vostro progetto e poi qua ci sono delle delle impostazioni ad esempio per i social vedete youtube cover twitter poi ad esempio per la stampa allora trovate le impostazioni per le pagine a 4 a 3 per le foto poi trovate per gli screen quindi avete full hd eccetera può servire per i vostri video per il mobile e via via discorrendo molto molto interessante e qua appunto come vi dicevo avete un'anteprima adesso io ve lo faccio vedere non ciò giocato lo sto guardando per la prima volta assieme a voi però volevo farvi vedere appunto quanto è simile a photoshop e la cosa bella che non dovete scaricare niente quindi fate tutto online quindi andiamo a scegliere un tema clicchiamo due volte ed ecco qua vedete che abbiamo anche dei messaggi video e vedete che lavora sui livelli proprio uguale uguale a photoshop la cosa bella è che c'è da tantissimi formati addirittura anche il rav e quindi poterete importare anche le vostre foto i vostri lavori e vedete qua abbiamo i nostri livelli quindi posso spostare qualsiasi livello eccetera è proprio uguale anche a photoshop anche come come tool i filtri eccetera l'unica limitazione ad esempio è non poter importare filtri come quelli della nicolasio ma andiamo su cose particolari dove allora magari avete bisogno di un programma fisico sul vostro computer ma pensate qua è tutto direttamente online ad esempio adesso per scontornare qualcosa abbiamo i soliti strumenti lazzano lazzo ecco posso andare a selezionare un livello e con il lazzo andare a scontornarmi un oggetto quindi fare copia incolla e avere quell'oggetto scontornato adesso ovviamente l'ho fatto molto velocemente non non prendete paura comunque ci sono come vedete anche tool lazzo magnetico vedete che in automatico trova da solo i bordi proprio come come siamo abituati in photoshop soltanto che questo è completamente gratuito e online perché ve lo sto facendo vedere non per fare pubblicità non mi interessa assolutamente ma perché è proprio un tool che può servirvi guardate che velocità lo scontorno ma poi ne avete veramente tanti anche con la classica bacchetta magica con la selezione rapida eccetera 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 e quali dico non sto a spiegarvi vari tool se vi interessa magari posso farvi vedere qualcosa in particolare ma sappiate che appunto non ha nulla da da invidiare a photoshop gimp e altri eppure è tutto online se dovete caricare qualcosa ecco è l'unica cosa che dovete aprirla dal vostro hard disk e quindi andrà caricata verso verso appunto online facciamo un esempio vado a caricare questa mia immagine ecco qua come vedete abbiamo anche vari template possiamo passare da uno all'altro è proprio uguale e se ad esempio andate a scontornare qualcosa adesso facciamo un lazzo poligonale ovviamente anche qua le caratteristiche saranno le stesse di photoshop anche come possibilità poi di fare curve non curve eccetera adesso io faccio una cosa banalissima tanto per farvi vedere che da un documento posso copiarlo vado sull'altro e posso incollarlo quindi le caratteristiche sono proprio le medesime anche a livello vedete di menu sopra finestre c'è la storia ci sono tutti i tool i filtri avete filtri come in photoshop per far utilizzare le vostre immagini colorarle olio eccetera eccetera la possibilità di maschere sul livello e trasformazioni anche ad esempio ecco la pena per andare a tracciare delle cose vettoriali a schermo potete fare figure piene e figure vuote con riempimento vedete oppure potete spegnere e fare solo il bordo con ovviamente guardate anche la il tipo di bordo lo spessore il tratteggio qua possiamo regolare la dimensione uguale 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 cosa devo dirvi di più e qua i livelli è la stessa cosa si possono invertire rovesciare ecco ad esempio molto interessante vado a prendere la mela che ho fatto e da qua sopra vedete lo posso esportare direttamente come png o svg e addirittura quindi png e vado a esportarmi la mela diamo sull'altro livello open place ed ecco la mela nell'altro mio livello uguale ovviamente non posso ingrandirla essendo ma andrà a sgranare come come è normale gli effetti ecco qua anche un'altra cosa che volevo dirvi che potete se è in inglese ecco quadro cedo ad esempio vediamo la nostra mela guardate che abbiamo già l'ombra ecco quando è aperta una finestra non posso andare a toccare sullo schermo questa è l'ombra la distanza dell'ombra vedete abbiamo proprio tutti i tu senza spendere una lira e qua abbiamo appunto come in photoshop quando aprite il pannello effetti poi in realtà le avete tutti quindi saltando da uno all'altro e adesso sto vado qui disattivo l'ombra e vado a intervenire invece sul 3d ecco qua per aggiungere questa luce vedete guardate che carino rimetto l'ombra e voilà una cosa importante se vi disturbo utilizzarla in inglese potete andare su more language e avete tutte queste lingue per cui credo non vi siano problemi tra cui finalmente l'italiano e quindi ecco qua potete sapere avere tutti i menù in italiano è molto molto interessante come potete vedere potete aprire tutti questi tipi di formati anche il row mi sembra di aver capito che non ha filtre però apre benissimo il row e quindi qua ora vi ritroverete tutti i menù in italiano andiamo a vedere la finestra caratteri le finestre vedete si aprono qua quindi abbiamo anche la possibilità di paragrafo eccetera il font bella l'anteprima del font ecco alcune cose sono in tempo reale come vedete anche questa qui che è importante avete ovviamente tutti i vostri pennini pennarelli eccetera quindi potete scegliere la dimensione l'angolo la diffusione e quello che desiderate quindi potete andare sia a utilizzarlo per disegnare come fotoritocco e anche per elaborazione immagini come avete visto ovviamente tutti gli effetti si possono applicare anche ai caratteri e quindi possiamo ottenere dei caratteri anche tridimensionali eccetera vi vado a far vedere una cosa molto interessante non so se su altri software online si può fare vado a fare un tracciato lo ammorbidisco come vedete faccio una curva così vado a prendere un font un carattere lo avvicino al tracciato e come vedete posso fare un testo sul tracciato quindi è veramente completo ecco un'altra cosa interessante ho fatto una selezione a cerchio e come vedete mi da indicazioni anche su quando sono al centro quando mi trovo a destra della linea verticale quindi abbiamo anche guide riferimenti eccetera che tornano molto utili tra l'altro quando facciamo una selezione tenendo premuto i tasti di funzione possiamo andare anche a spostare la selezione per selezionare perfettamente l'oggetto quindi se abbiamo sbagliato ad esempio a tracciare cerchi vedete così parte dall'angolo ecco se premo certi tasti posso partire dal centro e poi posso spostare la selezione per adattarla al mio oggetto ovviamente non mancano tutti i tool per la correzione lo strumento clone con il quale ovviamente possiamo prendere da un punto e spostare in altri pixel quindi per clonare e cancellare molto interessante come proprio in photoshop ma non mancano tutti lo strumento top top sposto contenuto quindi possiamo ad esempio selezionare una zona e poi spostare vedete in un altro punto e cancellare quel contenuto va anche a sfumare con gli altri pixel e guardate una cosa interessantissima vado a scontornare un livello questa è la cosa interessante metto i pixel inversi e l'ho scontornato in un attimo la cosa interessante è adesso questa vado a prendere questo livello e lo esporto svg svg è un formato vettoriale guardate il file originale jpeg messo a confronto con il file svg guardiamo ad esempio la zona del mantello vedete che nel file png è perfetto invece nel file jpeg è sgranato questo perché un file svg è stato appunto convertito in vettoriale e questo ci può tornare utilissimo in tutti quei programmi che fanno uso di appunto svg qui ad esempio siamo in affinity designer quindi un programma vettoriale bene io in descrizione vi lascio il link al sito ve l'ho voluto presentare per conoscenza ovviamente diciamo a me non interessa molto perché io vado a utilizzare i programmi di affinity photo che ovviamente sono a pagamento però hanno un prezzo molto ridotto e sono eccezionali e questo qui è una buona alternativa a a gimp che comunque è gratuito ma se non volete appunto presentire il vostro computer scaricare i programmi e magari vi serve solo fare uno scontorno un elaborazione in quel momento sapete oppure andate da un amico che non ha nessun programma di elaborazione e dovete farla potete accedere a questo sito e farla direttamente online io vi ringrazio per avermi seguito mettete un bel like e se vi interessa il canale non siete iscritti iscrivetevi ciao alla prossima ciao 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 ciao